bella ragazzoni qui sono io non nevocio il mio zio e sto a registrare io vi faccio vedere sta truccando ah ma lo sapete che funziona un video normale ma è su youtube no 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 non lo so targatemi su instagram mi chiamano cossolino 519 invece mia cucina come ha detto che cosa come hai detto che ti chiami sul livello di Instagram? Consolino 330 invece mi piace il solito di Instagram invece mia sorella non ha un attimo di Instagram sai che trovi pure su TikTok? si chiama Consolino 51994 e io questa uscirà rossi rossi uscirà tra poco perché mia cugina sto a fare un ma che schifo un tutorial di make up un ASMR no a me mi piace mi piace questi sono tutti i suoi rossetti però il lucido quello è un poco opaco posso prendere uno per farli vedere posso prendere questo è tutto quelli opachi a me mi piacciono questo è uno di mia cugina ho pure questa spugnetta mi prendi questo spugnetto d'acqua di Valencia vediamo le beauty blender poi c'ha aspetta c'è alcune cose queste beauty blender ho pure questo pennello bello lo avete capito vedi lo trucco oh 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 magari ne chiamerò da una cosa mia sorella che è una scema vabbè ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao